50 anni di attività dell'Associazione Psichiatria Democratica raccontati in un volume a cura di Emilio Lupo e presentato questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. 100 testimonianze di operatori ed esponenti della società civile, dal mondo della cultura a quello dello spettacolo, dell'informazione, della politica, arricchite da vignette e disegni inediti, parlano di salute mentale, libertà ed eguaglianza, ripercorrendo mezzo secolo di storia e di battaglie dell'Associazione fondata da Franco Basaglia. Grazie. Grazie.